Una panchina europea inaugurata nella giornata dedicata all'Europa, alla Villa Comunale, l'iniziativa promossa dall'Associazione Aquilasmus, a cui hanno aderito l'Assessorato alle Politiche Europee del Comune, la Regione, l'Università, l'Accademia di Belle Arti, il Gran Sasso Science Institute, il Consorzio Punto Europa, Europe Direct Abruzzo e il Centro Informa Giovani. Una panchina che servirà a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore dell'Europa, celebrando diversità e tolleranza. Volevamo celebrare la giornata sull'Europa, che è stata in data 9 maggio, e volevamo celebrare alcuni valori importanti relativi all'Europa, ossia quella della tolleranza, della diversità e soprattutto dell'essere uniti all'interno della diversità, perché sia come associazione ma anche con gli studenti e le studentesse che abbiamo coinvolto crediamo molto in questi valori e sono la nostra missione fondamentale. Il Comune dell'Aquila ormai è divenuto un crucevia di studenti internazionali grazie alle eccellenze come Università e Gran Sasso Science Institute. Siamo orgogliosi di questi giovani che si interessano così tanto alla promozione degli ideali europei, quindi l'inaugurazione di questa panchina blu vuole essere appunto un riconoscimento anche alla loro capacità di integrarsi, di lavorare all'unisono con studenti di tutto il mondo. Una mattinata che ha messo insieme istituzioni, studenti internazionali e studenti degli istituti delle scuole superiore aquilani per sottolineare pure l'importanza degli scambi e dei periodi di mobilità all'estero a dipingere la panchina, gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti. Ci confrontiamo sempre col territorio, con le operazioni fatte in questa importante città. Diciamo che il progetto è stato un po' accelerato ma anche rallentato dal clima, perché comunque lavorare all'esterno, l'arte pubblica presuppone quantomeno un clima decente, però quest'acqua ci fa bene, quindi siamo contenti ugualmente, siamo riusciti ad ultimare il lavoro.